Nick, camminando abbiamo trovato questo posto, questo è un laboratorio tipo segreto e mi pare che sia un laboratorio degli SCP dalle porte e dal lettore di carte E che tu che dici? Cioè nel senso possiamo entrare no? Sì sì entriamo Ok perfetto, allora io ho molta paura di scoprire cosa succederà in questo caso perché Allora, qua ci sono degli SCP, questo forse è il laboratorio degli SCP Che tipo avevano gli scienziati no? È presente Sì sì Comunque entriamo, vediamo un attimo Qua si presenta direttamente con una telecamera, lì vedo, che è spia Forse qua, questa qua, la utilizzava tipo il personale no? Il personale tipo degli SCP e tutte le robe Molto interessante, poi delle torce vabbè insomma E qua si scende Ma secondo te? Che SCP potremmo trovare? Non lo so, dipende anche da che ala è, diciamo dipende da tanti fattori in teoria Perché ecco tipo questa è l'ala mi pare degli Euclid Non so se funziona così tipo ad Ale Forse magari tipo qua ci sono solo SCP e Euclid e poi da un'altra parte ci potrebbero essere degli SCP tipo Keter per dire O safe, non lo so, vediamo comunque questo, ah allora Ah questo qua lo conosco 173 Praticamente la statua appena tu lo guardi Lei non si muove, invece quando tu non lo guardi Lei si muove, ti viene addosso e ti ammazza È molto pericolosa come cosa, infatti Io ho stra tanta paura Quindi non vorrei mai e poi mai che succedesse una cosa di questo tipo Allora dobbiamo fare molta ma molta attenzione Sì esatto, sicuramente l'attenzione sarà una delle cose fondamentali da avere Allora per chi non la conoscesse Eccola là Esatto, per chi non la conoscesse vado un attimo a farla vedere Intanto tu controllando i cassetti vedi un po' cosa c'è qua dentro Ok, ok È sempre bello trovare cose nuove Speriamo che le troverai di utili perlomeno Però adesso vediamo un attimo Ecco questa è la statua ragazzi, vedete In questa statua praticamente è molto particolare È molto paurosa Perché appena io non la guardo Vedete Eh, lei si avvicina Molto inquietante questa cosa Moltissimo Aspetta Ma adesso come esci da là? Eh, eh, esco facendo cosa? Tutto a posto? Eh sì Ok Nick Questa statua è stata proprio cattiva Io non c'entro mai più qua dentro Avete visto comunque tutti la prova di questa statua Che è pazza E ci fa fuori in due secondi se la provochiamo Mai provocare questa statua Mai e poi mai È super Super pericolosa Infatti è uno degli SCP più conosciuti al mondo Quindi forza andiamo Infatti se la vedete in giro Guardatela Guardatela Fissatela Anche se è orribile da fissare Me ne rendo conto Ma fissatela per la vostra sicurezza Adesso Andiamo avanti Questo è l'SCP 096 E qua Nick Oddio ma è tutto spaccato Purtroppo mi sembra di sì Mi sembra che qualcuno abbia spaccato tutto questo E non è molto bello devo dire Cioè nel senso Chi è stato E soprattutto Perché hanno fatto questa cosa Forse sono stati gli SCP che magari si sono ribellati E chi lo sa Magari Ci hanno ucciso tutti quanti Il personale dello staff Di questo posto Comunque del laboratorio Perché ricordiamo che questo è un laboratorio SCP E succedono tutte queste Madonna ma fa proprio schifo Allora Perché non c'è proprio il pavimento Cioè guarda è come se mancasse il pavimento Ma chi è? Sì vedo ma Comunque Sopra c'è Sopra lo scaffale ci sono delle cose È vero Oh ma c'è la tele No 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 Questa qua è ottima È fortissima Questa è ottima Proprio buona Io La lecco proprio È bellissimo Cioè allora Leccarla no Posso prendere il libro? Prendi Prendi tutte le cose che vedi qua sopra Perché sono utilissime E allora Io apro le porte Però sono molto strane Anche perché non mi sembra nemmeno Cioè si può comunque scendere qua sotto Non serve nemmeno tipo Aprirle Ma poi guarda qua C'è tutto quanto distrutto Tipo ci sono cose Strutture Cioè è proprio stato distrutto Infatti Vediamo se c'è il 096 qua dentro Che è questo qua è lo shy guy Che tu appena guardi Lui si arrabbia Infatti mi sa che si arrabbia Mi sa che dobbiamo uscire Prima che si arrabbi Ciao Perché l'hai guardato? Eh mi sa di si Ah C'ho paura Lui si mette ad urlare tantissimo Quando diciamo Quando lo guardi Perché ovviamente Shy guy è timido Quindi non dobbiamo guardarlo Per questo motivo qua E se tu non lo guardi Lui non ti fa niente Proprio il contrario È della statua 173 Infatti Infatti Non fanno schifo entrambi Però sono uno l'opposto dell'altro Bene Questo è il SCP-049 Questo è il medico della peste Tu ti ricordi che cosa fanno in questo Perché io non mi ricordo Da quello che ricordo Ti dovrebbe trasformare in zombie Quando ti uccide Ok Ti trasforma E all'inizio ti avvelena Ok perfetto Quindi Però alla fine Lo stadio finale è Appunto lo zombie Terribile come cosa Comunque io ti consiglio Di togliere questa cosa qua Perché ti vedi tutto Cioè Male Ti vedi molto male Prima che io utilizzi la telekill Per Ok perfetto L'importante è che tu abbia capito Adesso Cerchiamo di entrare Comunque non c'è problema Cioè nel senso Avendo la telekill Possiamo anche Oddio cos'è Oh santa maria Ok forse questo potrebbe essere un scp Spero di no Però mi ha fatto ridere un pochino No ma infatti Ma cos'era quel coso là Era tipo un magliale Mutante Ero un magliale Con gli occhi neri E in piedi pure Una visione orribile Che non auguro a nessuno Infatti vi chiedo scusa Se questa cosa vi ha traumatizzati Lo capisco perfettamente E vi chiedo scusa Perché non era mia intenzione Traumatizzarvi Comunque uscia Eh no 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 Ma il nome è da fuori Porca miseria Mi ha avvelenato Mi ha avvelenato No Nick Ma che caspita È sta roba Nick Eh C'era un ragno strano C'era un ragno strano Vattene No allora Poi comunque Scusami un attimo Guarda che tu Devi essere sveglio Perché tu qua Stavi Hai risposto mezz'ora dopo No devi rispondermi subito Blocchi No sto morendo Sto morendo Sto morendo Guarda il cibo Eh no Ma non mi serve il cibo È che sto morendo avvelenato Quanto mi manca Un secondo di veleno Se io non mi Se io non mi trasformo in zombie Vuol dire che ho delle difese Davvero buone Che mi proteggono Spero invece di non trasformarmi Proprio perché No Ma ti trasforma in zombie Solo quando muori e basta Ok ok Quindi è buono Perfetto L'importante è che non mi trasformi In questo momento in zombie Perché vorrei continuare a vivere Sinceramente Allora forse Andiamo da questa parte Comunque il medico della peste Fa proprio schifo Cioè come si permette Ma non lo so io Cioè veramente Io volevo fare una cosa Volevo andare ad esplorare Il laboratorio E qua ci sono cose strane Ma che caspita Ma cos'è qua Ma qua è tutto nell'acqua È tutto rotto Eh sì Se vedi sì Perché Ma che Ok Cerchiamo Qua c'è un'altra porta Sì cerchiamo di vedere uno alla volta Certo che però Fa proprio schifo questo laboratorio Io non volevo dirlo Ma fa proprio schifo Il massimo Completamente Allora Questo dovrebbe essere un altro scp E entra forza Mannaggia a te Arrivo arrivo Ecco bene Questo scp dovrebbe essere tipo La macchinetta Che se tu tipo Hai bisogno di qualcosa Lei te la dà Tipo se hai bisogno di cibo È molto veri Nick Eh Concentrati Perché non sei entrato subito Mi ero bagato nella porta Mi ero bagato nella porta Quando stavo Quando stavo cercando di entrare Ok Stavi cercando di entrare Comunque questa Macchinetta è inutile Cioè nel senso Non ti Ah ok Aspetta Mi dà tipo qualcosa No non mi dà niente Però se faccio così Mi dà qualcosa Dammi qualcosa Ok posso chiedere tipo Questo Molto buono Infatti tu adesso se entri Vieni qua Cos'è che c'è? Oddio Ti ha bruciato Ti ha bruciato E infatti adesso però no Io ti ho spento Sono stato molto bravo È stato un liquido Che si chiama Spita stai facendo Ma sei deficiente Eh no Per me ci sto ancora andando a fuoco No non stai andando a fuoco Poi concentrati Concentrati Non mi stai rispondendo Immediatamente Devi rispondermi immediatamente Stupido ignorante Che non sei altro Comunque Molten Nick Slime Bucket Ma che caspita è? Non lo so Non voglio sapere Ma cos'è? Cioè Passa un attimo È uno strano liquido Tipo lavano Che ti brucia immediatamente Come abbiamo visto Però Apri la porta? Sì 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 Ti apri la porta E usciamo anche Perché sinceramente È inutile sta roba Ok Oh Parla però Parla qua dietro Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Nick Allora Non si capisce niente Eh Cosa? Guarda Vediamo se fai reazione con l'acqua No Non sta facendo reazione Poi scende sotto Come vedi È inutile sta roba No ma infatti Non so Poi Magari l'avranno utilizzato Per torturare tipo gli scp O cose di sto tipo Oppure per torturare Magari tipo i class di poverini Che sono sempre più Sfruttati Ecco È morto Perfetto No ma è appunto È bruciato uno squid Eh sì Però entriamo da questa parte Vediamo una tia Cos'è? Non lo so Non ne ho idea Eh aspetta Riaprimi la porta Certo che però è inutile Scusami Se noi possiamo passare qua sotto È completamente inutile La cosa sono No esatto Ecco qua non c'è nemmeno l'SCP Esatto Questo qua mi sa che è l'old man Ah bene Eppure scappato l'old man in questo mondo Magico Perfetto Benissimo Perché la cella è simile a quella Eh Questo laboratorio guarda Questi sono blocchi magnetici E quello Ma scusami Ma secondo te Che caspita è stato? Io non apro più la porta Perché mi rompono le palle Ma non lo so Ma forse sono stati gli SCP Possibile? Eh potrebbe anche essere questa cosa Però guarda Mi sembra strano Cioè gli SCP Ok però Hanno tolto proprio il pavimento Secondo me C'è stato qualcuno Che tipo è venuto qua E ha distrutto tutto quanto E ha fatto questo cosa Per liberare gli SCP E Ma che Ma perché Ma lo vedi? Ma cos'è sta roba? Eh Caspita mi serve Una porta Se non c'è nient'altro qua Cioè non è normale Come cosa Ma non lo so Ma veramente non è normale Boh Io direi di andare avanti comunque Perché Ma guarda anche là davanti Ma non ci sono i muri È tipo di terra tra l'altro Cioè è come se io metto C'è una porta È come se io metto una porta Tipo davanti Non lo so In mezzo alla pianura E dico Ok qua c'è casa mia E però E nessuno può entrare No Non devi per forza aprirla Puoi fare così E puoi passare Cioè non serve a niente Non c'è il muro Oh ma qua cos'è che c'è infatti? C'è una botola Ok aspetta Devo andare davanti io Perché tu sei brutto Va bene Ma no non è vero Senza offesa per questa cosa Però un pochino a volte Magari potrei Potrei farmi nervosire C'è uno scheletro È fuori e giorno Ok Non mi interessava saperci Nel senso È inutile questa cosa Come al solito Eppure questa è stata distrutta Qualcuno secondo me Te l'ho detto Qualcuno secondo me è venuta Secondo me non c'è Non sono stati SCP È impossibile siano stati SCP Cioè è completamente distrutto Dirò caso Chissà adesso In questo mondo Che cosa succede Con tutti questi SCP fuori Guarda che è pericolosissima Questa cosa Cioè chissà cosa potrebbe Davvero succedere E chissà quali altri eventi Si potrebbero scatenare Per questi tipi di SCP È molto pericoloso Dobbiamo stare attenti E chissà che magari Potrebbe nascere una serie Da qua Da questa Diciamo da questo mondo Fatemi sapere voi Nei commenti comunque Per ora Noi finiamo qua Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti